Scelti i candidati, Sindaco e 5 Stelle hanno avviato le campagne elettorali. A Napoli Matteo Brambilla si pone l'obiettivo di allargare il consenso sulla base del programma. Il Movimento 5 Stelle ha come lotterato i cittadini e i cittadini sapranno scegliere chi andrà a rappresentare la propria città e avrà le idee per rappresentare la propria città e farà gli interessi della città. Questo dovranno fare i cittadini, non guardare le sigle, le persone, il Brambilla, il De Magistris, ma guardare il progetto città che sta dietro. Grazie.